È stato lei il primo a Cuneo ad essere vaccinato, sensazioni di qualche minuto dopo e anche il messaggio che ha voluto trasmettere con questo gesto? No, sensazioni dopo nessuno, nel senso che sto bene, questo voglio rassicurare tutti. La sensazione prima è invece di grande emozione, perché questo è veramente un giorno che credo ricorderemo tutti, quindi ben venga questo vaccino e direi che appunto è una nuova, non dico una nuova vita, ma si apre un momento più favorevole. Sa che c'è ancora tanta gente scettica e con un messaggio da parte sua che vuole mandare a questa gente, insomma perché vaccinarsi, perché è importante vaccinarsi? Perché è importante vaccinarsi, perché questa malattia è tremenda, noi l'abbiamo visto da febbraio di quest'anno in poi, è una malattia che veramente molto spesso non perdona, quindi bisogna vaccinarsi, bisogna vaccinarsi per sé, per la propria salute e per la salute degli altri e questo è fondamentale, ragazzi non dimentichiamacelo perché altrimenti non andiamo da nessuna parte e quindi dobbiamo anche alleggerire il peso di questa malattia anche per gli ospedali, per poter curare tutti alla stessa maniera.